Oggi parliamo della BOEM. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Qualche settimana fa ho chiesto ai miei patreons, ai miei amati patreons, di scegliere il topic, l'argomento di questa puntata, di questo episodio. E come puoi intuire dal titolo, oggi parliamo di filosofia medievale. No scherzo, parliamo della BOEM di Giacomo Puccini. Se anche tu vuoi parlare di filosofia medievale con me e decidere i prossimi argomenti, supportare questo podcast e leggere le trascrizioni, puoi diventare un mio Patreon. Se invece vuoi aiutarmi a comprare la mia prima Lamborghini, puoi farmi una donazione su Paypal. Trovi i link in descrizione. La prima parola di oggi è soffitta, un nome. La soffitta è una stanza di un edificio. È quella stanza che puoi trovare sotto il tetto e che normalmente le persone usano come deposito. Puoi anche vivere in una soffitta. Alcune persone lo fanno, ma normalmente l'uso è quello di deposito. La seconda parola è affitto, un nome. Quando vivi in un appartamento, in una casa che non è tua, devi pagare dei soldi al padrone, al proprietario della casa. Quei soldi si chiamano affitto. Quindi, per esempio, puoi dire di aver pagato l'affitto o puoi dire che il prezzo dell'affitto delle case di Milano è più alto di quello delle case di Parma. La terza parola è caffè, un nome. E adesso parliamo di qualcosa di interessante, penso. Perché normalmente gli insegnanti di italiano, anch'io lo faccio, dicono ai propri studenti che in italiano il caffè è una bevanda, non è un luogo. Normalmente diciamo vado al bar, luogo, a bere un caffè, bevanda. Forse potresti dire caffetteria, ma normalmente diciamo bar. Gli insegnanti spesso semplificano le cose. Non possiamo parlare per 20 minuti solo di caffè e bar all'interno di una lezione. Tutto questo per dire che in realtà puoi usare la parola caffè anche per parlare di un locale, di un luogo. È un uso che viene dal francese e che non è molto comune. Oggi parleremo di caffè, il secondo atto della bohème si chiama proprio Caffè Montmue, perché la bohème è ispirata ad un romanzo francese. La storia di oggi inizia a Parigi, a Paris, nel 1851. Uno scrittore con molto talento, ma con pochi soldi, scrive e pubblica un libro che in italiano puoi trovare con il titolo Scene della vita di bohème. Il titolo originale è Saint de la vie de bohème e lo scrittore si chiama Henri Mûger. Mi scuso con gli ascoltatori francesi per la mia pronuncia. Il libro non è un romanzo vero e proprio, è una raccolta di storie che parlano della vita di un gruppo di artisti bohemien nel quartiere latino di Parigi negli anni 40 dell'ottocento. È un romanzo che ha ispirato moltissimi artisti che hanno creato film, brani musicali, per esempio Charles Sassnavour ha scritto una canzone intitolata da bohème, ma anche musical e opere liriche. Prendiamo un aereo e da Parigi voliamo a Milano. Siamo nel 1893 e due famosi compositori italiani si incontrano in una caffetteria di Milano. Giacomo Puccini incontra Ruggero Leoncavallo e iniziano a parlare mentre bevono un caffè. La conversazione è piacevole, forse parlano dei loro gatti o di quello che hanno mangiato il giorno precedente. Fino a quando scoprono che stanno lavorando allo stesso progetto. Entrambi sia Puccini che Leoncavallo stanno creando un'opera basata sul libro di Murché. Inizia una sfida, una competizione tra i due compositori. Noi oggi sappiamo che l'opera di Puccini ha vinto, ha avuto molto più successo, però se sei interessato puoi cercare la bohème di Leoncavallo e ascoltarla, secondo me, non è brutta. Dunque, trama e struttura. Quest'opera parla, racconta l'esistenza di un gruppo di giovani artisti e delle loro storie d'amore nella Parigi del 1830. La struttura è composta da quattro quadri, che in questo caso è un sinonimo di atti, quindi quattro atti, quattro parti. Ora seguiremo la storia atto per atto. Naturalmente, se non vuoi conoscere il finale, ti invito a fermarti, mentre se vuoi conoscere tutta la storia, puoi ascoltare tutto l'episodio. In una fredda soffitta vivono quattro amici, quattro artisti, giovani e poveri. Il poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il filosofo Collin e il musicista Seanard. Rodolfo e Marcello sono nella soffitta e stanno aspettando gli altri due amici. È il 24 dicembre, la vigilia di Natale, e i giovani artisti sono allegri, ma non hanno voglia di lavorare, a causa della fame e del freddo. Per scaldarsi, stanno bruciando un articolo che aveva scritto Rodolfo. Arriva per primo Collin, triste perché non è riuscito a trovare del cibo. Poi arriva Seanard, trionfante, felice, con un cesto di cibo che ha comprato con dei soldi che ha guadagnato. Quattro poveri e giovani artisti sono entusiasti perché possono, finalmente, mangiare qualcosa. Ad un certo punto qualcuno bussa alla porta. Toc toc. È il padrone di casa che vuole i soldi dell'affitto. Ma i giovani non hanno questi soldi e riescono con furbizia, con intelligenza, a posticipare il pagamento. Decidono comunque di lasciare la soffitta e andare ad un caffè per continuare la serata in tranquillità. Rodolfo, però, dice di voler terminare un articolo e quindi rimane nella soffitta da solo, mentre gli amici vanno al caffè. Rodolfo sente ancora il toc toc alla porta. Qualcuno sta bussando. È il padrone di casa? No, è una giovane vicina di casa, Mimì. Mimì sta cercando una candela per accendere la luce nel suo appartamento. Rodolfo, naturalmente, è contento di aiutarla, ma ad un certo punto Mimì si sente male e cade. Rodolfo la aiuta e Mimì si sente meglio, ma si rende conto, capisce, di aver perso la chiave del suo appartamento. I due giovani iniziano a cercare la chiave e Rodolfo la trova, ma non lo dice a Mimì, perché vuole continuare a stare con lei. Vuole passare altro tempo con lei. Tra i due giovani nasce l'amore e quando gli amici di Rodolfo gli urlano dalla strada di fare veloce, di andare al caffè con loro, lui dice che sta arrivando con Mimì. Il primo atto è molto bello, anche a livello musicale. In descrizione trovi il link per ascoltare e vedere due arie molto famose dal primo atto. La prima aria si chiama Che geli da manina ed è cantata da Rodolfo. La seconda aria si chiama Sì, mi chiamano Mimì ed è cantata da Mimì. La seconda aria si chiama Sì, mi chiamano Mimì ed è cantata da Mimì ed è cantata da Mimì. Nel primo atto siamo nella soffitta, mentre nel secondo atto siamo nel caffè di Mimì. Ci sono Rodolfo e Mimì, Shonar il musicista, Collin il filosofo e Marcello il pittore. Arriva anche Musetta, una ragazza che è stata con Marcello e che è ancora innamorata di lui. Musetta arriva al caffè in compagnia di un vecchio e ricco signore di nome Alcindoro, ma lei vuole attirare l'attenzione di Marcello, del giovane pittore. Per questo prima canta e poi si inventa un dolore. Dice di avere un forte dolore al piede e chiede al vecchio Alcindoro di andare a comprare un nuovo paio di scarpe per allontanarlo. E' arrivato il momento di andare e i quattro giovani artisti scoprono di non avere i soldi per pagare il conto. Il vecchio e ricco Alcindoro non è ancora tornato e per questo Musetta dice che sarà lui a pagare il conto e fugge, scappa con i giovani. Poco dopo il vecchio Alcindoro torna con le scarpe di Musetta e deve pagare il conto per tutti. Dunque, un'aria molto famosa di questo secondo atto è quella di Musetta, che canta per attirare l'attenzione del pittore Marcello. E' un waltzer e si chiama Quando men vo. Quindi, quando l'ascolti, ricordati che Musetta sta cercando di riconquistare il suo ex fidanzato Marcello. Quando mi fa solenta per la mia, la gente sosta e mi rò. E la bellezza mia, tutta ricerca in me, ricerca in me da capo. Terzo atto. Il terzo atto è veramente drammatico. È sentimentalmente molto intenso. Fa freddo, è inverno e Parigi è coperta dalla neve. Mimi sta parlando con il pittore, con Marcello. Non è felice perché la sua relazione con Rodolfo è difficile. Lui è molto geloso e la accusa di non essere fedele. Arriva a Rodolfo e Mimi si nasconde, ma ascolta. Rodolfo confessa al suo amico pittore che le sue accuse sono solo un pretesto, perché lui è molto innamorato, ma Mimi è malata e vivere in quella soffitta non è positivo, non è salutare per lei. Per questo Rodolfo cerca una scusa per lasciarla, sperando che lei possa trovare una situazione migliore. Ma Mimi tossisce e Rodolfo la scopre. All'inizio i due giovani si accusano, si offendono, ma poi iniziano a ricordare i bei momenti passati insieme e si abbracciano appassionatamente e decidono di lasciarsi in primavera. Un'aria molto bella, molto drammatica, di questo atto si chiama Donde lieta uscì. Mimi canta il proprio dolore, canta un addio al suo amante Rodolfo che non può prendersi cura di lei. Quanto è difficile dirsi addio durante l'inverno. Donde lieta uscì al tuo grido d'amore Torna solo a me An solita riunita E concludiamo con il quarto atto. Ti ricordo che se non vuoi conoscere il finale puoi fermarti qui. Nel quarto atto siamo ancora nella soffitta dei giovani artisti. Vediamo infatti il poeta Rodolfo, il pittore Marcello, il filosofo Collin e il musicista Schonard. L'inverno è terminato e il clima è più caldo. I giovani stanno cenando e fingono di essere felici senza le loro innamorate. Ad un certo punto arriva Musetta ed è molto agitata. Con lei c'è Mimì debolissima e vicina alla morte. È tornata per vedere il suo amato Rodolfo. Il poeta corre da lei la abbraccia e cerca di sostenerla ma Mimì è fredda e ha bisogno di medicina. Marcello e Musetta corrono a cercare un medico e Collin e Schonard vanno a vendere dei loro oggetti personali per poter pagare il medico. Rodolfo e Mimì rimangono soli. Mimì ricorda i giorni felici con Rodolfo mentre il suo respiro lentamente diventa sempre più pesante fino a quando perde coscienza. Marcello e Musetta entrano nella soffitta ma ormai è troppo tardi. Rodolfo capisce che è finita e abbraccia piangendo il corpo senza vita di Mimì. Il quarto atto è sicuramente quello più tragicamente intenso. Parlo di tragedia perché sin dall'inizio dell'atto secondo me siamo già consapevoli della triste fine della povera Mimì per cui l'atto è molto intenso molto forte. Un'aria molto conosciuta e molto bella si chiama sono andati fingevo di dormire. In quest'aria Mimì è vicina alla morte e per questo non ha più tempo di litigare o di nascondere i propri sentimenti. con l'ultima aria che ha a disposizione sceglie di ricordare tutti i momenti belli che hanno passato insieme e di parlare dei sentimenti che sono rimasti vivi anche quando lei e Rodolfo erano separati. Va bene va bene la Bohème è sicuramente una delle opere più belle più intense più drammatiche più tragiche e per questo più amate dal pubblico quindi ti consiglio di vedere di ascoltare più versioni e di scegliere quella che a te piace di più. Nell'episodio ho inserito l'audio di una versione in pubblico dominio per il copyright ma la versione più conosciuta è forse quella diretta da Herbert von Karajan con Pavarotti che interpreta Rodolfo. È un album pubblicato dalla DECCA nel 1987. Infine ti ricordo che quando parliamo di italiano dell'opera stiamo parlando di un uso poetico della lingua per cui se non capisci è normale non preoccuparti l'italiano dell'opera non è l'italiano comune. Rivediamo le tre parole di oggi. La prima parola è soffitta. Abbiamo visto che i quattro giovani artisti sono molto poveri e per questo vivono in una soffitta che è la stanza direttamente sotto il tetto e che normalmente usi come deposito. La seconda parola è affitto. I soldi che paghi per vivere in una casa o in un appartamento che non è tuo e nel primo atto i quattro giovani non hanno i soldi per pagare l'affitto. la terza parola è caffè e abbiamo visto che in italiano puoi dire vado al caffè ma è un uso che viene dal francese e che non è estremamente comune quindi puoi trovarlo nell'uso letterario dell'italiano per esempio in un'opera ma personalmente ti consiglio di dire vado al bar o vado alla caffetteria. Va bene va bene abbiamo finito oggi episodio abbastanza lungo ma la bohème secondo me è un'opera molto bello e per cui è necessario un po' di tempo io ti ricordo di seguirmi su instagram facebook dove vuoi e noi ci sentiamo la settimana prossima ciao ciao